Buonasera, siamo tornati in diretta per Primo Cittadino, il programma di Fano TV dedicato ai sindaci del nostro territorio e questa sera è tornato a trovarci il primo cittadino di Vallefoglia, Palmiro, Ucchielli. Buonasera Sindaco. Buonasera. Prima di cominciare anche questa puntata in diretta e visto che siamo in un contesto politico ci tengo a ricordare e salutare Fabio Uguccioni tra i vari incarichi ricoperti è stato anche ex assessore del comune di Fano, assessore ai servizi sociali e dunque vorrei esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia da parte mia, da parte del direttore Marco Ferri e di tutto lo staff di Fano TV. Anche lei sindaco aveva avuto modo di conoscere Uguccioni? Sì, sono rimasto un po' così. Quando ho visto la notizia è una persona in gamba, una persona seria, molto affabile anche nei rapporti quindi veramente condoglianze e credo sia una perdita per tutto il nostro territorio. Una perdita per l'intera comunità di Fano, è vero. Cominciamo dunque la nostra puntata, vi ricordo innanzitutto i numeri di telefono per intervenire in diretta 0721 86 14 33 oppure un messaggio anche con Whatsapp al 338 49 68 250 Le Marche in zona gialla, è stato confermato questo dato, addirittura oggi Acquaroli non ha firmato altre ordinanze e dunque da mercoledì tutti i comuni saranno gialli. Nelle scorse settimane c'era stata un po' di preoccupazione per Vallefoglio, un piccolo però allarme rientrato, sindaco? Mi pare proprio di sì, ovviamente occorre fare i vaccini, io ho fatto la seconda dose proprio ieri mattina Sta bene? Sì, sto bene, ho avuto qualche piccolo effetto Un po' di male alla spalla, insomma, niente di che, insomma, e quindi si tratta di continuare però finché non avranno fatto tutti i vaccini con l'attenzione necessaria di evitare assembramenti, le cose che ormai sappiamo a memoria al mantenimento della mascherina e le distanze per ritornare a una vita normale, ad una vita, diciamo, che ci consenta anche di recuperare quest'anno di difficoltà e di attività economiche e produttive perse in molte realtà e quindi abbiamo la necessità di lavorare forte noi abbiamo un calo abbastanza importante, avevamo circa una settimana fa 95 contagio, abbiamo una sessantina se tutti stanno attenti ovviamente si può ritornare come si è visto dalla zona bianca però si può tornare anche in zona rossa come è successo in Sardegna, quindi bisogna continuare a mantenere l'attenzione, soprattutto l'invito che faccio è a fare tutti i vaccini insomma senza tentennamenti, si è visto che funzionano e quindi superare le difficoltà e ritornare alla normalità Ma è sfumata questa ipotesi di avere un punto vaccinale a Vallefoglia? No, continuiamo ad insistere, abbiamo in quell'area dei comuni di Vallefoglia, Monte Labate, Petriano, Monte Calvo la parte bassa di Tavuglia, circa 50 mila abitanti, pensiamo che bisognava fare sia i tamponi che i vaccini già lì dall'inizio, soprattutto a tutte le persone che hanno dai 60 ai 90, 100 anni che hanno dovuto spostarsi su Pesero insistiamo, anzi faccio un appello ai medici perché diano una mano, collaborino, sono una trentina di medici convenzionati con la regione che se ci danno una mano evitiamo che due terzi, forse più, che devono fare ancora il vaccino circa 30 e passa mila abitanti vadano a Pesero spostandosi, facendo più di 15 chilometri con tutti i disagi con l'inquinamento atmosferico, incidenti, tutto quello che significa piuttosto che farli invece nella Casa della Salute dove è proprio lì nel cuore di quest'area che ormai è un'area che ha gli abitanti della città di Fano, questi 4-5 comuni messi insieme Ma visto che Vallefoglia è stato appunto uno dei territori più colpiti, secondo lei la regione potrà destinare al vostro comune delle risorse in più? Ma la regione fa bene a destinare insieme allo Stato nazionale delle risorse per coloro che hanno avuto delle difficoltà le imprese, le imprese che hanno dovuto stare con attività proprio al minimo e quindi speriamo che mettono delle risorse per un buon ristoro di tutti quelli che hanno avuto difficoltà E avete messo a disposizione anche delle stanze, quindi vari municipi, proprio per discutere le tesi di laurea sappiamo che in questo periodo di pandemia purtroppo neanche questo piccolo momento di felicità può essere condiviso con i propri familiari quella invece è un'occasione giusta Abbiamo messo a disposizione le sale del Consiglio Comunale a Sant'Angelo in Lizola col Bordolo e anche nei tre castelli delle sale diciamo messe apposta apposta per fare anche dei matrimoni e delle tesi di laurea perché pensiamo che quella parte del territorio è la parte più carina, più importante, che ha una storia antica che ha dei borghi bellissimi, un paesaggio straordinario e perché no dare le tesi di laurea e fare i matrimoni A proposito di municipio inizia a prendere forma anche quello di Montecchio, a che punto sono i lavori? Sono a buon punto, stanno montando già finito il primo piano in legno in un annetto dovremmo avere il municipio nuovo predisposto su tre piani a fianco alla Casa della Salute e alla palestra e alla Scuola Federico da Montefeltro anche quella costruita in legno in 72 giorni in tempi di record quindi se tutto va bene il prossimo anno avremmo tutta la struttura comunale salvo delle presenze che manterremo a Sant'Angelo e a Colbordolo dove ci sono gli attuali municipi per evitare disagi alle persone più anziane però ecco dovremmo ridurre, contenere i costi, migliorare la qualità dei servizi e soprattutto quella parte che è un buon 90% della popolazione che sta da Montecchio, Bottega, Marciolato, con la parte bassa a tutti gli uffici lì, insomma è solo una parte diciamo delle zone collinari che intendiamo rafforzare valorizzare, scenderanno a valle non per tutti i servizi perché alcuni servizi importanti li manterremo nelle colline, nei borghi storici e poi una struttura all'avanguardia perché antisismica, perché ignifuga quindi insomma tutto quello che offrono le moderne tecnologie è una struttura che come tutte le strutture sono più moderne perché sono di ultimissima generazione e quindi la climatizzazione c'è una bella sala del consiglio comunale che può essere utilizzata dai cittadini lì c'è un'altra bella sala diciamo nella scuola Federico di Montefeltro per riunioni, per incontri, per attività interdisciplinare quindi è abbastanza importante gli spazi non sono mai troppi Cominciamo a leggere i messaggi sindaco li leggo insieme a lei in diretta Sindaco Chiali, cosa pensa dell'atteggiamento dilatorio della giunta regionale sul nuovo ospedale di Pesaro che rischia di farci perdere 120 milioni di investimenti e se non si pente di essersi opposto 20 anni fa all'istituzione a Pesaro di una struttura sanitaria come l'IRCS? Io penso che chi arriva e chi vince le elezioni non necessariamente deve cambiare tutto quello che hanno fatto quelli prima se una cosa va bene e condivisa si può continuare a realizzare quello che era stato fatto precedentemente ovviamente se ci sono dei cambiamenti bisogna discutere con i sindaci con le città, con i territori non si può cambiare un progetto che ha avuto la discussione di anni soprattutto non si può ritardare ad avere la struttura di nuova generazione in una provincia come la nostra in un territorio come quello del compressorio pesarese, fanese e così via e poi bisogna cercare di rispettare gli impegni anche per quel che riguarda le cose dette durante il periodo delle campagne elettorali perché poi bisogna avere coerenza, affidabilità e serietà e su questo siamo giudicati tutti Quindi è a favore di questa nuova struttura, di questo nuovo polo ma invece di una struttura unica? Ma si è parlato sempre di una struttura unitaria, condivisa se ci sono altre proposte vanno valutate io non sono a corrente di altre proposte, le vedo sulla stampa penso che se si vuole fare un ospedale nuovo a Pesaro bisogna parlare con tutti i comuni di quel compressorio e quindi spero che oltre che il sindaco di Pesaro anche gli altri sindaci possono essere interessati le politiche sociosanitarie, la tutela della salute come si vede sono fondamentali e sono la prima cosa che ognuno di noi deve tutelare quindi spero che se ci sono proposte nuove siamo tutti coinvolti Un'altra domanda per lei è possibile alleviare la viabilità del mattino da Pesaro verso la riva Cold con delle strade alternative? C'è un po' di traffico, sindaco? Ma lì in verità io ho incontrato recentemente l'assessore Baldelli per proporre di prendere in carico all'ANAS e quindi allo Stato il tratto che va dal casello dell'autostrada al cimitero degli inglesi canadesi di Montecchio che è rimasta la strada provinciale col passaggio della Montalabattese all'ANAS e bisogna cercare di alleggerire il traffico ristudiando bene noi abbiamo fatto un incontro con i sindacati con l'azienda AMI per vedere come riorganizzare la mobilità diciamo una mobilità sostenibile nel comprensorio pesarese utilizzando di più i mezzi pubblici piuttosto che le auto private riducendo le auto che circolano per andare a lavorare riducendo gli incidenti riducendo l'inquinamento atmosferico e studiando meglio le vie principali che sono quella che ho citato è la Piso Urbino e la Montalabattese poi c'è via Pantanelli che è la strada fra le due strade la strada intermedia che può essere migliorata e quindi una maggiore fluidità oltretutto Rivacol sta facendo 30.000 metri di caponone nuovo 28 di attività produttive e 2.000 metri di mensa e quindi c'è tra l'altro una buona attività di altre aziende importanti che stanno potenziando le loro attività quindi è chiaro che bisogna studiare meglio faremo a breve un altro incontro con la sottoscrizione di un documento da parte dei sindacati delle imprese e dei lavoratori per fare in modo che ci sia una mobilità più attenta meno problematica più scorrevole anche diciamo meno costosa per i lavoratori perché si può fare un accordo anche con le aziende e magari il mezzo pubblico si può trovare modo di far pagare una parte anche alle aziende integrando anche i salari dei lavoratori e soprattutto riducendo l'inquinamento e gli incidenti e a proposito di strade avete presentato anche il nuovo maxipiano degli asfalti abbiamo via via in questi 5-6 anni questo oramai è verso il settimo anno con costanza messo 400-500.000 600.000 quest'anno 2021 nel bilancio per fare gli asfalti la dico con una battuta scherzando non me ne vorranno i miei colleghi insomma Vallefoglia quando si arriva nei confine le strade non dico sono tutte a posto ma ci sono pochissime buche mi dice un collega ma lo potevi dire che asfaltavo anche quella di là perché la gente guarda la differenza ma del resto la competizione è anche tra territori tra sindaci e se uno fa bene io vedo di imitarlo i cittadini sono contenti quanti chilometri di strade ci sono Vallefoglia? i chilometri sono diversi esattamente non saprei dire quanti perché l'ex comunità col Bordolo era diciamo molto esteso tante strade anche un territorio molto vasto comunali interpoderali vicinali eccetera per centinaia di chilometri insomma mentre Sant'Angelo in Lidia era tutto raccolto su Montecchio e Sant'Angelo un po' più campagna quindi comunque sono parecchi chilometri di strade però con una programmazione annuale in due legislature io penso che noi non avremo più strade le avete rifatte un po' tutte? sì penso proprio che in questo mandato non ci saranno più strade con le buche dopodiché qualche buco rimarrà sempre insomma però quando tu a cadenza annuale rifai tutti gli asfalti poi durano anni anni e anni per esempio adesso anche le zone rurali la strada del Brasco dove saranno 30-40 famiglie che va a Sant'Angelo in Lidia la strada per Coldilce dove è un posto bellissimo meraviglioso dal punto di vista ambientale abbiamo fatto dei tratti rifaremo altri tratti insomma la strada che va da Montefabbri a Pontevecchio e paesaggistica dove percorriva le bravate la banda grossi insomma anche strade rurali dove ci sono poche famiglie però abbiamo cercato di sistemarle di sistemarle tutte naturalmente dove stanno 13-14 mila abitanti e quelle devono avere le loro priorità però i cittadini sono tutti uguali quindi anche nelle zone rurali abbiamo cercato e cercheremo anche con questo programma che approveremo i progetti esecutivi a breve faremo gli appalti e prima dell'estate faremo tutti gli asfalti prima del prossimo inverno le strade saranno tutte asfaltate quindi molto molto rapido l'intervento non ha risposto ci dice il telespettatore alla seconda parte della domanda non si pente di essersi di non essersi opposto vent'anni fa all'istituzione della struttura sanitaria come il LIRX si è pentito oppure no di questa scelta ma io non sono pentito di niente nella mia vita penso di aver fatto delle cose più giuste possibili insomma penso che fu una partita che era tutta politica che non aveva molto a che vedere secondo me con le questioni vere della tutela della salute in quella fase però la vita è una questione anche di punti di vista insomma penso che le strutture si poteva mettere un po' più risorse soprattutto in quella parte come si vede con la pandemia con il covid che sono i distretti i poliambulatori la medicina territoriale perché è chiaro che se invece di fare tre punti covid pisolo fan urbino avessero fatto pisolo fan urbino tutte le case dell'assoluto tutti gli ex ospedali forse avremmo avuto tanti disagi in meno perché uno deve andare urbino da Carpegna da Cagli da Cantiano però serviva anche più personale no? beh personale quello che è stato concentrato in tre posti si poteva distribuire diversamente ho citato il caso di Vallefoglia ci sono 30 medici bastano 5 o 6 medici per fare tutti i vaccini in quel territorio ruotando un po' tra di loro quindi non è che non c'è il personale medico il problema è avere nella testa un'attenzione io per esempio penso che la medicina preventiva sia molto importante l'educazione alimentare la medicina diciamo territoriale i medici di famiglia svolgono un ruolo fondamentale chi conosce meglio del mio medico la salute mia certamente se vado in orpedale cosa sa della mia salute il mio medico sa più o meno tutto quindi credo che questo sia importante spero che ci sono tante risorse nei fondi europei e nel bilancio dello Stato che ci sia veramente una svolta non solo ospedale nuovi efficienti ma soprattutto potenzialmente i servizi territoriali dove stanno le persone ecco perché rafforzare i servizi territoriali vuol dire anche evitare ricoveri ospedalieri vuol dire risparmio enorme anche dal punto di vista della spesa ospedaliera certo e anche avere comunque una struttura di questo genere a pochi metri a pochi chilometri ne va anche della salute stessa dei cittadini e cambiamo argomento sindaco perché è stato presentato anche il nuovo progetto per il monte di Colbordolo anche Fano TV era presente alla conferenza stampa un progetto importante ecco vediamo qua in questo momento le immagini un progetto che riguarda anche l'area buschiva ci sarebbe tanto da dire in questo caso magari ricordiamo alcune fasi di questo progetto di rilancio noi abbiamo in verità ringraziato prima l'associazione che ci ha proposto cinque perporsi ciclopedonali cicloturistici l'abbiamo presentata anche quella nella sala del consiglio a Pian del Bruscolo coinvolge una decina di comuni molto importante e poi quella del monte di Colbordolo sentieristica area picnic insomma una serie di diciamo potenziamenti di un'attività come quella del monte di Colbordo che è tutta basata sull'ambiente il turismo la valorizzazione del paesaggio e perché no l'enogastronomia e quindi sono tutti percorsi noi puntiamo molto come si è visto abbiamo presentato un logo un portale turistico la sentieristica presenteremo a breve insieme al comune di Urbino di Petriano di Isola del Piano della provincia una segnaletica turistica da Raffaello a Girolla Mogenga e quindi puntiamo non solo siamo una città industriale che punta alla piena occupazione ma la piena occupazione la puntiamo anche impegnandoci su un settore di cui in passato non ci si è mai occupati perché era prima una città agricola poi una città industriale pensiamo che l'ambiente la storia il paesaggio l'enogastronomia possa diventare un pezzo del sistema economico e produttivo presenteremo subito dopo l'estate una pubblicazione sulle radici storiche della città di Vallefoglia la città che va da Giovanni Santi a diciamo a personaggi come Girola Vogenga come Costanza Monti insomma personaggi molto importanti quasi tutti di caratura nazionale che danno una centralità a Vallefoglia che diciamo hanno avuto a che fare con i Malattesta di Rimini Federico da Montefeltro con i della Roveri di Pesaro insomma hanno avuto rapporti anche con la città di Fano quindi diciamo non solo siamo il terzo comune della provincia dopo Pesaro e Fano ma siamo in centrali in un'area che ha più o meno gli abitanti di Fano perché sono più di 50.000 abitanti e anche nei contagi come ho spiegato al Presidente della Giunta Regionale ad Acquaroli e all'Assessore Saltamartini io gli ho detto guardate che dovete fare i conti non su 15.000 abitanti perché lì lavorano vengono nei supermercati vengono nelle banche 50.000 persone che vengono a lavorare che abitano in quella zona ma altre 50.000 che sono fluttuanti vengono dall'Emilia Romagna a lavorare vengono in piscina la piscina del Pian del Bru sono 2.000 soci quindi è un territorio che è contagiato paradossalmente in termini positivi perché portano richiesta tutti quelli che vengono in quel territorio ma quando c'è una pandemia portano anche contagi se tu mi fai i conti su 50.000 abitanti è un conto o su 100.000 se mi fai i conti su 15.000 è chiaro che puoi anche superare quei parametri che poi tra l'altro dovrebbero essere sempre a livello provinciale per aree omogenee perché è chiaro che lo stesso ragionamento vale per Fossombrone vale per Acqualagna vale per i comuni capofila di un'area omogenea continuiamo sempre sulla scia del turismo voi puntate tanto anche sul bike turismo con dei circuiti dedicati ma avete anche tanti chilometri di piste ciclabili noi abbiamo circa 20 chilometri di piste ciclopedonali abbiamo provato nel contratto del fiume del fiume Foglia un sistema di piste ciclopedonali di mobilità dolce di sostenibilità della mobilità ciclopedonale che va da Pesaro a Carpegna l'Unione dei Comuni che io presiedo ha circa 140 130-140 chilometri di piste ciclopedonali in tutti i comuni e stiamo ancora impegnandoci in questa direzione quindi la sostenibilità la riorganizzazione diciamo dei trasporti della mobilità i temi del controllo dell'aria dell'acqua i temi dell'ambiente e del futuro delle nuove generazioni incontrato stamattina una ragazza di 20 anni che vuole collaborare sul futuro di un territorio perché vuole partecipare a dire la sua perché vede un territorio diciamo che deve puntare molto sull'ambiente sulla tutela della salute sulla sostenibilità su uno sviluppo di qualità e per presentare tutto questo anche in un modo adeguato avete illustrato un nuovo sito un nuovo portale del comune anche in questo caso abbiamo le immagini visit Vallefoglia lo ha accennato prima questo portale turistico della città completamente rinnovato e sì abbiamo voluto una cosa nuova che non c'era e quindi abbiamo lavorato insieme io che seguo direttamente il turismo con queste tre ragazze professioniste tutto del posto una è anche consigliere comunale ma fa come professione diciamo si occupa di questi di questi siti di questi diciamo portali e quindi hanno fatto davvero un lavoro straordinario che coigo l'occasione anche qui per ringraziare insomma perché uno che clicca e vede oggi nel mondo cos'è Vallefoglia la sua storia hanno fatto un lavoro enorme di ricerca di oltre un anno un lavoro veramente importante che uno vede che Vallefoglia non è solo una città che mantiene una buona agricoltura ma è una città che ha una storia importante e gloriosa se penso a Terrenzo Momiani già ministro del governo Cavour insomma oppure le aziende leader perché uno pensa che sia solo la città industriale non è solo la città industriale quindi mancava questa ciliegina che è arrivata e che è stata realizzata da donne poi che è arrivata da tre donne tre ragazze tutte e tre del posto e quindi veramente siamo orgogliosi perché hanno fatto un bel lavoro che può essere visitato quotidianamente da chi vuole venire a passare dei giorni delle cose insomma un weekend tra Piso Urbino e la Romagna in un territorio incontaminato perché insomma la parte interna quella culinare dei bordi storici è rimasta come centinaia di anni fa insomma poi si mangia da Dio in quei posti anche oltretutto parliamo adesso del contratto di fiume perché lei come presidente dell'unione dei comuni Pian del Bruscolo ha scritto nuovamente al ministero e alla regione Marche quali sono state le sue richieste? ma quali sono state intanto è approvato uno dei primi delle Marche uno dei primi d'Italia il contratto di fiume con degli investimenti in corso prima di tutto sull'asta fluviale per esempio perché penso che a breve inaugureremo il raddoppio del depuratore a Montecchio che serve tutta quell'area di 50.000 abitanti e poi c'è una previsione ed è nel contratto di fiume già spedita al ministero il nuovo depuratore a Schieti il comune di Urbino nell'asta fluviale quindi depuratore a Borgheria Pesero Montecchio per quell'area e la parte alta del fiume Foglia un territorio di quasi 200.000 abitanti poi la ciclo pedonale che dicevo che va fino a Carpegna uno non ci crede ma come da Pesero fino a Carpegna sì fino a Carpegna costeggia il fiume in molti tratti entra nelle zone residenziali poi c'è una scheda sui beni culturali se penso alla chiesina di San Martino di Rio Salso la chiesa antica importante o se penso la chiesina della Madonna dell'Arena a Montecchio tutti i beni la storia di quella vallata che sarà spedita a breve e dentro il contratto di fiume ma in maniera specifica al Ministro Franceschini dei beni culturali e poi la banda ultralarga che è la modalità con cui oggi oramai si naviga sia le attività produttive soprattutto le nuove generazioni quindi sono tanti progetti finalizzati in questo contratto di fiume pronti per essere finanziati quindi la lettera al Ministro l'abbiamo conclusa in un paio d'ore insieme all'assessore Agusti che si occupa insieme a me della cabina di regia e al sindaco di Urbino e quindi speriamo che arrivano diversi milioni di euro perché come si sa creano con i ricoveri plan no? si creano voglio dire un miglioramento ambientale dell'asta fluviale che aiutano la mobilità non inquinante che recuperano la storia i beni culturali e quindi diventano un momento anche dal punto di vista turistico e così via e poi creano lavoro perché sono già diversi milioni di investimenti in corso e se finanzieranno come sembra che ci sia l'impegno da parte dei ministeri a finanziare quel contratto di fiume avremo diverse opportunità di lavoro se uno viene a Vallefoglia è tutto un cantiere stamattina hanno iniziato i lavori della realizzazione di una decina 10-15 posti macchina a fianco alla Casa della Salute anche in vista di una possibilità di fare i vaccini per avere più posti macchina sono in corso i lavori della sistemazione del rifacimento di tutte le porte e finestre alla biblioteca di Morciola che è una delle biblioteche diciamo storiche della vallata del Foglia sono in corso i lavori del Comune a breve dovrebbe iniziare i lavori del nuovo teatro dei 330 posti sono finiti i lavori del teatro di Sant'Angelista il teatro Branca che abbiamo rimesso a nuovo quindi inaugureremo non appena ci sono le condizioni quindi avremo anche delle attività culturali teatrali e bibliotecari importanti e dicevamo appunto di questi progetti che riguardano sostanzialmente mezza provincia di Pesero Urbino quindi tantissimi abitanti circa 160.000 giusto? sì il contatto di fiume comprende un'area che va da Pesero a Velforti che sono circa 180.000 abitanti quindi più di mezza provincia quindi direi che è molto importante abbiamo fatto un lavoro al di là dei confini abbiamo tirato molto le fila come Unione dei Comuni però insieme a tutti i sindaci della Vallata sulle questioni della viabilità dei trasporti della mobilità c'è un bel impegno io ho incontrato l'assessore Baldelli per realizzare una rotatoria lì dove c'è la piscina piena del bruscolo e la scuola con oltre 600 alunni per trasferire quel pezzo di viabilità che va dal casello dell'autostrada fino al cimitero dell'Isia Montecchio all'Anas e quindi allo Stato e devo dire che ha dato anche una condivisione all'assessore oltre che l'amodernamento del tratto che va da Talacchio e che bypassa un po' diciamo gli abitati di diciamo di Rio Salso e anche di Borgo Massano e che amoderna tutta la vallata del Foglia che va da Pesero a Sant'Angelo in Vado Grosseto quindi tutta dello Stato migliorarla modernarla renderla più sicura la stessa Montelabattese ci saranno circa un milione e mezzo credo di investimenti mi diceva il compartimento dell'Anas a breve perché è diventata anche la Pesurbino e lì c'è un progetto di ampliamento di raddoppio della Montelabattese verso Urbino perché è la Pesurbino e noi siamo nel bel mezzo quindi sono milioni di investimenti che lavorano in azienda e creano opportunità di lavoro certo invece per il polo tecnologico a Morciano c'è stato un incontro venerdì scorso se non ricordo male che cosa potrebbe significare per voi e per la comunità ma allora adesso chi ha i progetti concorre ai soldi che l'Europa ha messo a disposizione è lo Stato nazionale seppur con gli costamenti di bilancio cioè con l'aumento del debito perché questo è però ecco noi per esempio stiamo facendo un progetto abbiamo avuto 200.000 euro per fare un progetto per l'adeguamento alle attuali norme della scuola media Pian del Brusco di oltre 600 alunni stiamo lavorando per fare un progetto di raddoppio dell'attività della piscina di Pian del Brusco che ha 2.000 soci chi diceva che era una catedrale al deserto oggi se accorge invece che bisogna raddoppiarla per cercare le risorse perché con i progetti esecutivi si diciamo si raccolgono diciamo le risorse necessarie che ci sono in giro per la regione per l'Italia e per l'Europa e poi il progetto di Morciola che è un progetto molto interessante per tutta la vallata come un po' il contratto di fiume che prevede che cosa è un centro di ricerca scientifica tecnologica agroalimentare per monitorare tutto quello che va sul tavolo dei cittadini usando almeno possibile se fosse possibile non usare proprio i prodotti diciamo chimici che vengono attualmente usati in agricoltura e un accordo con l'Università di Urbino che ha elaborato già una mostra progettuale e che consente di monitorare la qualità dell'aria e dell'acqua è una scuola di alta specializzazione per la formazione di giovani manager nella competizione internazionale infatti ho scritto una lettera al presidente della provincia che deve fare la programmazione per le scuole superiori e quella della formazione di alta formazione professionale per giovani manager è una diciamo una un format che va tra le superiori dell'università e che consente di essere più competitivi nei scenari internazionali ho scritto all'assessore vicepresidente aggiunta regionale Carloni che è l'assessore all'agricoltura e all'internazionalizzazione all'assessore latini che è l'assessore all'istruzione e alla cultura per la parte programmatoria della regione e speriamo che possa essere inserita questa scuola di alta formazione professionale perché cosa è successo anche nell'area fanese sicuramente nel ricambio generazionale mancavano queste figure professionali sì perché con il ricambio generazionale quelli di una volta che erano abituati a alzarsi alle 4 del mattino a sacrificarsi con il ricambio generazionale spesso e volentieri c'è stata una moria di metà delle aziende in più le nuove aziende chi ha la passione di fare impresa bisogna insegnarli come si fa un'impresa quindi fare una scuola di questo tipo che non c'è nelle Marche tantomeno al nord delle Marche nella provincia di Piesurbino recuperare quel fabbricato che è un punto vendita di una cooperativa prestigiosa perché ha avuto più di 400 soci la cooperativa della cantina sociale gloriosa cantina sociale di Morciola e oggi è un punto vendita e si può realizzare devo dire che la chiacchierata è stata molto importante era presente il rettore due prorettori il presidente della provincia consigliere regionale delegato dall'assessore Carloni due banche la banca di Pesaro e Riviera Banca quindi c'è un interesse anche lì a stringere a fare un progetto esecutivo per avere dei soldi per acquistare quella struttura e ristrutturarla e far diventare un luogo che cerca il controllo dell'aria dell'acqua di tutta la vallata che tratta l'agroalimentare che fa un punto di vendita anche aumentando il reddito soprattutto per i giovani che vogliono rimanere in agricoltura e che forma le nuove generazioni perché se noi vogliamo competere con i grandi paesi del pianeta come gli Stati Uniti d'America la Cina l'India il Brasile se non abbiamo gente con gli attributi ben formati giovani forti dinamici e che sanno come si fa in presa rischiamo di portare il fallimento potrei fare decine di casi di aziende che con ricambio generazionale sono fallite sono chiuse e hanno creato disoccupati piuttosto che creare occupati quindi una bella occasione una bella opportunità è una grande opportunità per la provincia di Pesurbino per quella vallata io penso per le Marche perché non mi risulta so che stanno ragionando una cosa analoga per quel che riguarda la birra in quel di Piobbico a Pecchio dove c'è la scuola superiore la provincia sta ragionando su una cosa analoga ma è specifica per la birra questa è specifica per l'internazionalizzazione delle imprese come sta andando sindaco la raccolta differenziata cambiamo un attimo argomento perché nei giorni scorsi avete fatto anche un richiamo avete lanciato un appello a senso di responsabilità dei cittadini perché d'altra parte sono stati notati anche dei casi di abbandono di rifiuti quindi cittadini che in modo corretto differenziano i rifiuti altri che invece li abbandonano ma non c'è un destino cinico e baro il destino è nelle nostre mani come si vede anche con il covid e c'è una percentuale molto alta della raccolta differenziata siamo oltre il 70-80% quindi diciamo che l'educazione ambientale è passata nel grosso dell'opinione pubblica ci sono alcune persone che lasciano nonostante che c'è un centro di raccolta sempre aperto di marche e molti servizi proprio lì vicino all'azienda Riva proprio vicino al depuratore nel centro di Montecchio nel centro della Vallata e quindi delle volte dà proprio fastidio vedere che uno lascia un televisore che lo può portare gratis lì un pezzo di divano nei fossi nelle scarpate è una cosa diseducativa soprattutto che poi se porti un divano fino lì insomma tanto vale portarlo fino al centro di raccolta ma poi se uno telefono lo vengono a prendere perfino a casa gratuitamente quindi è un appello al buon senso alla buona educazione l'educazione civica dei cittadini quella parte piccolissima devo dire di persone che si comportano così non va bene pensateci un po' e portate i prodotti nel centro di raccolta dove vengono appunto ritirati gratuitamente Sindaco siamo in chiusura chiuderei con lei leggendo questo messaggio potete chiedere per favore al Sindaco se nel 2024 vi piacerebbe candidarsi come Sindaco di Pesaro? Ma 2024 è lontano anni luce manca ancora un po' a me mi è bastato ma avanzato anche fare il Sindaco già in passato mi è stato chiesto la prima legislatura e anche la seconda legislatura sto vivendo anche una bellissima esperienza dopo aver fatto tante cose il Sindaco di Pesaro c'è valuterà Pesaro chi sarà il Sindaco di Pesaro quando sarà il momento insomma abbiamo giustamente altre foto mi dicono dalla regia prima di chiudere che riguardano invece la ristorazione scolastica di buona qualità perché è un'iniziativa che è portata avanti insieme all'Azur a Revasta 1 vediamo un attimo anche se riusciamo a mandarle in onda per avere un equilibrio nutrizionale e quindi far mangiare sano anche più piccolo la qualità dell'alimentazione è una delle cose importanti non è a caso che noi facciamo quella proposta sull'agra alimentare di tutta la vallata nella ex cantina sociale di Morciola quindi a cominciare dai più piccoli è un accordo oramai che dura negli anni con diciamo la società che gestisce l'alimentazione nelle nostre scuole è molto apprezzata dai genitori ci sono molti suggerimenti dai genitori e quindi ci sentiamo di puntare molto sulla qualità dell'alimentazione che vuol dire la salute dei bambini e vuol dire la tutela diciamo della parte più in difesa della popolazione e mangiare bene vuol dire mangiare cose di qualità e quindi e crescere sani puntiamo molto sulla qualità hanno chiamato il regia per dirle il sindaco che dovrebbe dare l'incarico ai cittadini di denunciare chi butta l'immundizia in modo improprio così che magari la volta successiva ci pensano due volte prima di gettare così i rifiuti sono molto d'accordo nel senso che non è che uno denuncia come si dice in gergo fa la spia no fa il dovere di un cittadino se uno vede un altro che fa le cose che sono contro legge lo denuncia e fa anche nome e cognome perché uno sta più attento non è pensabile che si punta molto sull'ambiente sul paesaggio sul turismo e poi ci si deve diciamo un po' un po' anche sputtanare ecco un termine un po' diciamo il linguaggio dei cittadini però insomma per tre divani poi adesso va tutto su facebook quindi magari 99% dei cittadini tengono tutti in ordine uno perché lascia il divano ecco la città l'immagine è la città dei Vallefogli quindi è un invito e anche un invito a denunciare quelli che non fanno quel che devono fare Sindaco siamo purtroppo in chiusura di questo appuntato io vorrei ringraziare in regia Riccardo Sora e Cristiana Guerra e grazie a lei per essere tornato nei nostri studi grazie a voi è sempre un grande piacere Fano è una delle mie città dove mi ha eletto deputato quindi non mi dimenticherò mai dei fanesi grazie Sindaco grazie di nuovo e buona serata a tutti voi rivederci